Ferentino di Alex Stoli Progresso a Frentino Mi ricordo che potevo tenere 6-7 anni il padre la domenica mi portavano la partita del campo sportivo andiamo a piedi come a tutti gli altri sembrava una processione tutti in fila, mani a mani alla via tutti in fila, sia qui che noi ora, stiamo a parlare 50 anni fa siamo meravigliati qui che mesi fa a Roma forse a 2-3 km dal campo dell'Olimpico c'era una marea di gente che avevano la partita tutti incolonnati a come ci siamo noi 50 anni fa ma certo che noi a Frentino siamo fatti tanti progressi noi oggi avevano la partita del campo ci siamo con la macchina ci arriviamo fino ad innanzi ai cancelli e ci manca poco a fare il biglietto con da Trento alla macchina chi gli voraccia a Roma a mesi ci detena io ancora a piedi e tutti in processione all'occhio i vigili servino può far attraversare la gente a piedi agli ecco da noi può farci uscire dagli parcheggi del campo con la macchina a come agli signori non sapete poco quanta via fateli progressi a Frentino però a me non sarei piaciuto più io agli campi a piedi Ferentino 24 settembre 2003 non saperebbe che Grazie.